Il tema dei valori ed in particolare il rispetto della vita ma anche della famiglia tradizionale. Il popolo della famiglia scende in campo a sostegno di quei simboli che sono patrimonio di tutti e non solo di una parte. Lo scrive il coordinatore regionale del partito, Raffaele Adinolfi, a proposito delle polemiche per il Gay Pride in programma a Salerno il 25 e 26 maggio prossimi. Un'occasione per lanciare una proposta valoriale che è quella di concedere la cittadinanza onoraria di Salerno al piccolo Alfie Evans, il bimbo ricoverato all'ospedale di Liverpool e al centro, suo malgrado, di un caso diplomatico internazionale. La proposta del coordinatore regionale è di conferirgli la cittadinanza onoraria della città, prendendo spunto dal braccio di ferro con il movimento LGBT per sfidarli ad un confronto pubblico. Allora, noi non abbiamo nulla contro i Gay e nulla contro il diritto di manifestare. Abbiamo però preso atto che c'è una decisione di parte assunta dal sindaco perché ha deciso di dare il patrocinio, il salotto più bello della città e un contributo economico ad una parte ideologica, su un tema divisivo senza un dibattito pubblico. Oggi ho letto sui giornali che invece l'Arcicai avrebbe detto che noi vogliamo fare le manifestazioni contro e loro invece vogliono fare le manifestazioni inclusive. E se è vero, io sono disponibile a qualunque confronto e sarei lieto di essere invitato a partecipare. Ciò nonostante non condivido assolutamente la scelta di dare un contributo per una manifestazione di parte che non entusiasma tutti. Grazie.